oh oh ali ali far dire o taa per la dire chiamare ma con lo domandi con lo secco ma fa dire ah ma non fare questo video normale mi chiamiamo a mamma ma ci guarda se non è fatto il video che ha detto il video che ha detto non rispondi non rispondi fimosamente ora c'è il vento ora ci vola tutto guarda 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 all'aeroporto all'aeroporto l'atterraggio dell'aereo stiamo vicino alla pista guarda come si vede da vicino guarda l'atterraggio dell'aereo guarda l'atterraggio dell'aereo indiretta indiretta guarda Grazie